Allora Assessore, una clausola di raffreddamento con l'US Avellino, si può parlare di definizione della vertenza o siamo ancora lontani? Siamo ancora molto lontani perché poi questa clausola raffreddatoria è solo per darci un po' di tempo sia a noi che alla società US Avellino per non colpirci in questa fase di contabilizzazione dei lavori fino al 2013. Quindi in realtà siamo a buon punto con la contabilizzazione però poi passerà la palla prima al patrimonio comunale che gestisce la convenzione con l'US Avellino e poi alla stessa società che dovrà accettare o meno questi nostri rilievi contabili. Parliamo dei lavori dal 2013 ad oggi? Per quanto riguarda, no questi sono quelli vecchi fino al 2013, per quanto riguarda quelli del 2015 e 2016 quindi la carbonatazione e tutto i rilievi sono stati fatti già da tempo pure durante l'esecuzione dei lavori. Adesso ci stiamo concentrando su questa prima parte dei lavori e stiamo procedendo, siamo a buon punto siamo quasi al termine per poter poi presentare questa contabilità al settore patrimonio che poi dovrà girarla all'US Avellino che la dovrà accettare o meno. Quindi per il momento è scongiurata l'ipotesi dei decreti ingiuntivi del Comune nei confronti dell'US, mi sembra questa no la notizia? Vabbè, già sono partiti i scontri noi contro loro e loro contro di noi, appunto con questa clausola di raffreddamento cerchiamo un attimo di cristallizzare il tutto e di bloccare un attimo e poi eventualmente di poter parlare con carte alla mano perché se non parliamo con carte alla mano non possiamo sicuramente cercare di risolvere questa problematica che non spetterà i lavori pubblici, voglio sottolinearlo perché noi siamo dei meri esecutori per quanto riguarda il controllo dei lavori la contabilizzazione è basta. Non è il 29 ma sarà il 2 maggio, 3 maggio, nel senso che quelli sono i tempi.